Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla, ho visto un pochino questa discussione su Reddit, comunque questo ragazzo che ha un pochino raccontato la sua esperienza su zombie che è partita solo di recente, infatti a quanto pare è uno che gioca molto spesso multigiocatore ed è capitato per sbaglio su zombie e ha detto ma si dai facciamo giusto una partita e da allora si è chiuso in maniera prepotente, prima su Shadow of Evil, poi su Dries and Dracke e poi sul resto delle mappe di Black Ops 3. Dice che principalmente non si è guardato nessun tutorial per impararsi un pochino da solo la mappa per cui magari impararsi come fare certe cose tra cui sicuramente le più basilari come i rituali per dire di Shadow of Evil per accendere il pack a punch, poi in seguito costruire la spada, potenziare le migliori strategie, utilizzare per bene la Wonder Weapon e poi rifatto la stessa cosa su Dries and Dracke chiudendosi sempre circa una settimana che penso sia un tempo abbastanza buono per un giocatore che appunto non ha mai toccato zombie e non sta seguendo nessun tutorial perché se penso adesso magari tutte le volte che abbiamo giocato Shadow of Evil o comunque le mappe più complesse di Black Ops 2, Black Ops 3 o Black Ops 4 senza tutorial inizia a diventare abbastanza faticoso, ci sono moltissime cose da fare, moltissimi pezzi da ricordare e diverse cose che magari se si vogliono imparare senza nessuna tipologia di aiuto o comunque guida risultano molto complicate proprio da anche soltanto scoprire e imparare per bene se penso alle spade di Black Ops 3 e come potenziarle, senza un tutorial adesso non saprei neanche da dove partire, sarò sincero, un tempo forse lo sapevo addirittura a memoria anche tutti i simboli adesso veramente 0-0-0 per cui mi fa molto piacere vedere che ci sono ancora magari alcuni giocatori che stanno soltanto adesso scoprendo zombie e tra virgolette invidio un pochino la loro esperienza perché io sicuramente la mia esperienza riguardante a zombie dello scoprire tutto quanto quindi proprio le basi, scoprire zombie stesso e voi col tempo impararmi per bene tutto quanto ce l'ho già avuto ma se ripenso appunto alle primiste partite che bastava un round 4, un round 5, un round 7 o 8 di 10-15 minuti a rendermi molto molto eccitato per la partita per farla continuare e uccidere più zombie possibile adesso invece ritengo che in quasi tutti gli zombie che posso giocare, che sia World at War, Black Ops 1, Final 4 una partita solitamente standard può durare anche diverse ore e devo ammettere senza neanche troppo sforzo che io giochi a Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 o Black Ops 4 a meno che io giochi in una mappa particolarmente difficile come può essere, non lo so, dei posti di Black Ops 2 o una first room da qualche parte è chiaro che la partita comunque può andare avanti molto tranquillamente fino all'round 50, addirittura magari un 100 e teoricamente ben oltre se avessi il tempo e sicuramente la voglia però voglio ripensare un pochino magari ai tempi in cui anche le cose più stupide riguardanti i zombie quindi comprare l'M14 a muro invece che l'Olimpia, aprire questa parte che è under totem come accendere la corrente, quale armi potenziare, quale sia la migliore wonder weapon, la migliore strategia e tutto il resto sono sempre cose fantastiche da poter finalmente imparare e scoprire per la prima volta e come ho detto anche in un video fatto diverso tempo fa ci sono due tipi di giocatori, i neofiti e i veterani e alcune cose che per un veterano sembrano davvero stupidissime le più banali in assoluto e che non sembrano necessarie da essere spiegate o comunque in qualche modo discusse per un neofita invece possono essere molto molto importanti anche che la cosa più stupida come ricaricare prima di raccogliere munizioni al massimo come era nei Black Ops precedenti, fortunatamente non più su Black Ops 4 quello può essere comunque importante e utile a una partita che vuole essere perfezionata al massimo che sia un record, una partita anche semplice a divertimento, un easter egg o più avanti per dire un gauntlet, una partita per livelli, per mimetiche e molto altro per cui vedere un post del genere dove questo ragazzo appunto dopo aver giocato prima Shadows poi ha recuperato Rise and Ra che poi col tempo ha detto ho comprato tutte le mappe e anche Zombie Chronicles, mi fa molto piacere che qualcuno possa addirittura in un gioco soltanto come Black Ops 3 giocarsi 14 mappe di qualcuna con un'esperienza un pochino più nuova quindi setup molto lungo, diverse cose da poter fare che sia lo scudo, arma speciale, diverse wonder weapon come gli archi di Rise and Ra che ha anche un easter egg un pochino più complesso con la final boss fight e la cutscene e magari provarsi anche una semplice Verruckt, naccedere a un Totten anche se ovviamente con tutte le Gabblegam e altri sistemi su Black Ops 3 risulta sicuramente alterato e un po' più semplice e gli consiglierei piuttosto di recuperarsi Black Ops 1 con tutti gli LC che si può fare secondo me con veramente pochi soldi forse magari il gioco lo trovi a 10€ però i DLC comunque ancora costano sfortunatamente però anche in quel caso si possono recuperare le vecchie mappe di World at War fatte comunque come si deve ma un po' più ottimizzate rispetto a World at War stesso dove alcune cose proprio non sono fatte benissimo non soltanto dal punto di vista grafico ma anche tecnico puoi sicuramente recuperarsi l'origine Alecchino, Ascension, Call of the Dead, Shangri-La e Moon sono veramente insostituibili e poi comunque ovviamente saltiamo poi a Black Ops 2 dove anche lì Transit, Città, Deposito, Farm, Dolore anche in parte magari Trasformato e altre mappe di DLC sono sicuramente molto molto importanti e parte integrante dell'esperienza che è Zombie nella sua complessità ci sono tantissime mappe, tantissime modalità, tantissime storie e tantissimi modi per poter giocare Zombie non c'è soltanto magari il giocatore come me che acquista un gioco sa comunque molto bene come funziona Zombie in generale quindi si concentra su scoprire la mappa nuova fare gli easter egg, fare il livello 1000, la Dark Matter che sono comunque qualcosa di già un pochino più lungo e magari impegnativo dal punto di vista sia temporale sia di strategie molto molto specifiche ma c'è anche il giocatore che semplicemente si fa una partita da tipo un'ora arriva al round 30 dopodiché la conclude gioca con gli amici online una partita in 3-4 persone fa un round 15-20 giusto una partita per divertimento fa online con i random prova un pochino tutte le armi comprendo sia quelle al muro sia provando nella cassa prova a potenziarle tutte quante utilizzare tutti i perk possibili le migliori combinazioni c'è comunque chiunque che può in qualche modo scoprire Zombie con la sua tempistica e con la sua modalità motivo per cui ritengo sempre molto importante tenere comunque accesa la discussione su qualunque social riguardante Zombie specialmente in questo caso Reddit con più di 200.000 utenti iscritti a questa community in cui si può discutere delle cose più variegate non soltanto per dire come va avanti la storia etere la storia caos come sono state le ultime mappe Black Ops 4 ma addirittura che qualcuno possa dire guardate mi è piaciuta molto King of the Air Totten oppure per me è sopravvalutata e se c'è comunque una giusta discussione si possono dare le proprie opinioni secondo me è veramente spettacolare quindi che siano le mappe, le armi, i perk qualunque altra cosa fatta in tutti questi anni di Zombie e tante altre cose che si può fare interna modalità Zombie perché è comunque una modalità a sé stante e per quanto ci sono alcune persone che giocano migliaia di ore su un multigiocatore io sono uno che ha giocato migliaia di ore su Zombie di Black Ops 4 circa 1300-1400 ore che sono davvero tantissime non sono tutte tutte su Zombie ma la maggior parte sicuramente sì di Black Ops 3 ce ne sono almeno 500 solo di Zombie purtroppo Black Ops 1, Black Ops 2 non ci sono delle statistiche o se ci sono non sono affatto precise ma anche lì probabilmente contando tutte le console in cui l'ho provato che fosse a inizio PS3 poi 360 anche in parte PC sicuramente Black Ops 1 penso di aver giocato 50-60 giorni di gioco e Black Ops 2 probabilmente un'altra trentina, quarantina con tutte le partite che ho fatto anche soltanto per divertimento in quel caso mi viene in mente di Black Ops 2 se avevi giusto un'ora libera facevi una città partendo dal 20 arrivavi probabilmente al 40 massimo 50 e poi quittavi avevi fatto qualche migliaio di uccisioni diversi colpi alla testa avevi usato Mustang probabilmente un MP5 normale ho potenziato ho fatto la cassa e praticamente la partita finiva lì poteva risultare magari molto ripetitivo come sono ripetitivi adesso gli skip di Black Ops 4 per le riserve i livelli e tanto altro però era comunque divertente perché era Zombie quella è la base di tutto quanto è sempre divertente giocare a Zombie che sia uccidere gli Zombie sparandoci un'arma esplosiva sparandoci colpi alla testa facendo 100.000 200.000 500.000 un milione di punti che è veramente bello vedere un numero così grande che sia fare un round 50 un round 100 un round 150 o addirittura 200 per chi ha molto tempo o è davvero molto molto forte e comunque ognuno può giocare a Zombie esattamente come vuole e come ho detto prima con i suoi tempi qualcuno magari gioca a Zombie in maniera concentratissima una settimana gioca tutto quello che vuole e poi non ci gioca per 6 mesi mentre qualcuno fa giusto una partita al giorno ogni due giorni che dura mezz'ora un'ora quindi scopre qualcosina tra qualche giorno riprova scopre qualcosina in più e piano piano col tempo avrà giocato tutto quello che vuole o continuerà a giocare quanto vuole e questo è un altro dei motivi per cui sto adesso recuperando finalmente tutte le modalità Zombie mancanti o comunque diverse come è stato ex Zombie come sarà Infinite Warfare e World War 2 perché per quanto la base sia sempre Zombie molto molto simile che siano i perk la vita stessa del personaggio magari le armi a muro la cassa e un altro paio di cose come può essere per dire anche un pack a punch o simili per quanto riguarda avere una storia completamente nuova e mappe completamente nuove che sono veramente una novità per un giocatore come me è veramente fantastico quindi avere di nuovo questa piccola emozione che avvia una mappa e non so assolutamente nulla non so come è fatta la first room non so quali armi ci sono nella first room non so che perk c'è se apre questa porta non so dov'è la corrente non so quale sia uno zombie speciale il boss l'easter egg l'arma migliore la wonder weapon e tanto altro quindi posso fare partita dopo partita per impararmelo per bene adesso è magari difficile che io proprio giochi qualcosa di tra virgolette nuovo senza guardarmi un tutorial ma per ex zombie in parte l'ho fatto semplicemente avviavo la mappa e giocavo per quanto potevo che fosse o round 10 o round 20 o addirittura o round 30 come ho fatto magari su final rike su cross ten house o anche in tutte le mappe di ex zombie dove appunto semplicemente avviando la mappa ho detto vediamo quello che riesco a scoprire dopo qualche partita che ho capito diciamo le basi come è fatta la mappa il layout le armi e qualcosina mi guardo per bene i tutorial sulle cose prima o più complesse che sia potenziale la wonder weapon sicuramente come fa l'easter egg magari il posto migliore in cui camperare girare oppure altro e posso quindi portare l'esperienza a livello successivo e impararmi per bene tutto quanto come so praticamente a memoria alcune cose di black ops 4 come le sapevo di black ops 3 di black ops 2 di black ops 1 e di world at war per cui sicuramente per chi è non ancora membro magari integrante di questa community vuole provare per bene il zombie vi consiglio di farlo recuperatevi probabilmente black ops 3 rimane uno dei migliori con tutte le mappe disponibili e la semplicità che in parte si può avere su sicuramente le mappe di zombie chronicles magari le mappe pochino nuove di dlc come shadows of evil try and drag e altro con i setup diverse cose può risultare più complicato e magari addirittura troppo le prime volte che avviamo una partita perché se qualcuno non ha mai giocato zombie e avvia shadows tra la beast mode i rituali e diverse cose può risultare molto molto faticoso e molto confusionario però fidatevi che secondo me una volta imparati un po' di cose l'esperienza di zombie è veramente unica e insostituibile per cui ragazzi voglio sapere le vostre opinioni se anche voi avete magari incontrato qualcuno che solo di recente ha avuto la prima esperienza su zombie e le è piaciuta davvero tanto mi capita spesso magari di incontrare altre persone che hanno comunque come me la passione per i videogiochi magari per call of duty e una delle prime cose che chiedo è hai mai provato zombie e quanto l'hai provato la maggior parte delle persone magari hanno giocato un po' hanno fatto qualche round 20-30 se sono riusciti a andare un pochino più avanti e se hanno giocato magari black ops 1 o 2 che permettevano ancora un certo margine di errore a mio parere dal punto di vista di setup e comprendere la mappa mentre già black ops 3 appunto avviene una mappa come shadow of evil è veramente difficile riuscire a capire proprio le basi quindi molto spesso la gente abbandona anche perché proprio non riesce a capire tutto quanto o non ha voglia magari di perdere così tanto tempo seguendo tutorial oppure altro però sicuramente se qualcuno magari parte da black ops 1 come hanno fatto molte persone ma è compreso quindi si impara le basi di una king of their totem per dire può poi piano piano riuscire a comprendere anche altre mappe leggermente più complesse e piano piano arrivare magari a black ops 3 e black ops 4 che secondo me sono l'apice per quanto riguarda complessità di setup o comunque moltissime cose da fare rispetto a una kino che semplicemente spawni e sopravvivi spero come sempre ragazzi che vi sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo al prossimo un abbraccio ala